Allora nella nostra introduzione alla figura di Edvard Munch e della sua formazione abbiamo visto come il secondo soggiorno parigino li valse un definitivo passaggio a qualcosa di diverso, a un'arte più complessa, soprattutto più cerebrale, più intimista, più soggettiva. Fondamentalmente da un interesse anche se molto superficiale per l'impressionismo più ortodosso e per il post impressionismo di matrice quantist si era passati a qualcosa di diverso, a una ricerca più soggettiva guidata dal lavoro di artisti come Van Gogh e soprattutto come Gauguin. I commenti e gli articoli di un personaggio come Christian Krog che abbiamo visto essere stato uno dei maestri di Edvard Munch ma a questo punto essere diventato un amico e un promotore della sua arte lo aiutarono a farsi un nome nell'ambito degli ambienti di rottura, di quegli ambienti dove negli stessi anni si cercava un rinnovamento attraverso l'istituzione delle secessioni. In questo contesto Munch viene invitato ad esporre a Berlino nel novembre del 1892 e la sua esposizione sarà fondamentale proprio per la nascita della secessione di Berlino che ancora non esisteva perché questa esposizione fu aperta e chiusa in meno di una settimana. I commentatori legati al mondo accademico che considerarono l'opera di Munch un insulto all'arte perché scandalosa, perché brutta, perché non finita pretesero la chiusura della mostra e pochi mesi dopo proprio come reazione a questa chiusura nel 1893 prese avvio la secessione di Berlino guidata da Max Lieberman. Interessante per noi il fatto che l'atteggiamento sdegnato di una parte del pubblico aveva effettivamente colpito Munch, però Munch non rimane offeso anche se si rende conto in maniera chiara di non essere accettato, trova diciamo in questa critica una sorta di attestato di agibilità alla sua modernità. La sua intenzione era quella di trovare un linguaggio che analizzasse la realtà in modo brutale, in modo assoluto, senza belletti, senza infingimenti, anche sull'onda dei modelli letterari che abbiamo analizzato nella scorsa lezione di Ibsen, di Strindberg, evidentemente questo rifiuto del suo lavoro dimostrava che aveva imboccato la strada giusta. E quindi quello che esplose come l'affare Munch lo fece sorridere, lui a un certo punto dirà non mi sono mai divertito così tanto, è incredibile quanto una cosa innocente come un dipinto possa creare un simile trambusto. Un dato di fatto è che da questo momento l'artista, che a questo punto è arrivato a una propria cifra stilistica, espressiva abbastanza definita, comincia a sperimentare modi sempre più sintetici, sempre più liberi, sempre più antinaturalistici, che servono per esprimere la propria interiorità, le proprie convinzioni, che sono profondamente lontane da quell'ottimismo borghese, patinato, progressista, positivista, ben pensante, che invece informava di sé appunto all'arte accademica. La sua è una pittura che assume da subito toni tragici, oscuri, erotici, soprattutto misogini, e vedremo che questa misoginia informa di sé la sua produzione, tutta la sua produzione, con un uso tra l'altro sempre più spregiudicato del colore, di come il colore viene posto sul supporto, l'abbiamo già visto nella scorsa lezione, il colore non viene sullo stesso ma viene graffiato, il supporto spesso lascia trasparire zone incompiute, zone intatte, zone scabre, oltre che zone appunto graffiate, grattate, scarnificate, e l'utilizzo di paste cromatiche intense ma molto spettrali, spente, livide, fredde, accostamenti acidi, venati di ombre molto profonde, molto consistenti, che sono chiaramente dense di un simbolismo assolutamente oscuro. Ora, tra le opere che l'artista realizza in questa fase berlinese, a parte la morte nella stanza della malata, che abbiamo analizzato nella scorsa lezione, ci sono dipinti come pubertà, che è quello che vedete in questa slide, e la prima versione dell'urlo, che sono tra i lavori assoluti di Munch. In pubertà noi troviamo già una serie di temi anticipati nel corso del nostro ragionamento. Gli elementi compositivi, il lessico, diciamo è un lessico essenziale, gli elementi compositivi sono pochi, sono semplici, sono sintetizzati all'estremo. La figura di questa ragazzina nuda è identificata da colori densi, da colori stridenti, che sono tipici della tavolozza matura di Munch, quindi questo bruno graffiato dello sfondo e del pavimento, che però è macchiato anche da un'ombra di verde acido, che si riflette sull'incarnato della fanciulla. È la fanciulla che è seduta sul letto, si copre il pube, mostra un'espressione inerme, uno sguardo sospeso, uno sguardo angosciato, perché evidentemente è turbata dai suoi pensieri e sembra che rifletta sul passaggio dallo stato di fanciulla a quello di donna. Da questo punto di vista, l'uso del rosso, per esempio, del letto, sembra richiaggiare abbastanza evidentemente il colore del sangue e tutti i simboli che al sangue stanno dietro, a partire evidentemente dalla memoria della morte della madre e della sorellina, ma soprattutto il simbolo del menarca, perché qui siamo proprio nel momento di passaggio, in cui la fanciulla diventa donna. Quindi la chiave di lettura più profonda sembra collegarsi soprattutto all'ombra nera, incombente, che sta alle spalle, ma che è gettata di lato, tra l'altro. Quindi c'è anche una negazione, un superamento consapevole delle regole prospettiche e compositive nel tentativo di deformare proprio la composizione. C'è quest'ombra inquietante che ha una consistenza negativa, la consistenza di un brutto presagio, un fantasma, una sorta di doppio della protagonista che appunto è intenta a questo passaggio dall'innocenza della sua essenza di bambina invece alla piena sessualità della donna. E noi sappiamo che la sessualità per Munch è qualcosa di negativo, perché la sua capacità di dare piacere è solo effimera e quindi in realtà è un veicolo di dolore, di disperazione. E nel dipinto si trova quindi un simbolo, che è un simbolo evidente nella sua semplicità, del, come posso dire, dell'avvenire drammatico di questa donna, che comunque è costretta dal ruolo che gli viene imposto dalla società a farsi strumento di dolore, veicolo di dolore, a vivere per accoppiarsi, per riprodursi e per morire. Questa è la sua unica ragione di essere. Ora, questa, come posso dire, questa influenza del pensiero di Schopenhauer è ancora più evidente nelle opere successive, permia di sé la gran parte del lavoro di Munch, la misoginia, l'idea della donna demoniaca, della donna incantatrice, che è capace di portare l'uomo alla perdizione, si mostra evidentemente in opere come il vampiro, l'artista dedica, come vedete in questo caso, più versioni nel corso della sua parabola creativa a questo soggetto, dove si vede un uomo che è incapace, anche se magari comprende il dolore che ne deriverà, però è incapace di resistere al fascino peccaminoso della donna, che lo accoglie in grembo, finge di alleviare le sue angosce, ma poi lo avviluppa in questo abbraccio mortale attraverso i capelli che si diventano tentacoli rossi, fulvi, anche qui il rosso evidentemente è un collegamento al tema della passione, ma anche del sangue, e poi appunto lo vampirizza, quindi lo stringe in un abbraccio mortale. Lo stesso tema è sublimato nel soggetto sacro per eccellenza, la Madonna, con cui Munch si spinge però ai limiti di ciò che si poteva ritenere accettabile, anche da parte di artisti rivoluzionari come lui, perché qui si tratta di una vergine sacrilega, anche in questo caso il soggetto viene indagato in tante versioni, almeno in cinque versioni diverse nel corso degli anni, sia per via pittorica che per via grafica attraverso la litografia, e questa Madonna però si trasforma in un soggetto languido, in un soggetto sensuale. Voi guardate solo il gesto delle braccia che stanno dietro alla testa, come se si stirasse la testa reclinata, che portano, come posso dire, amplificano, gettano in primo piano il busto, il torso, il biancore del torso, e soprattutto i seni nudi di questa Madonna così avvenente, e con un'aureola rosso-sangue che evidentemente rende esplicito il soggetto sacro, semmai qualcuno avesse dei dubbi, e che però col suo rosso, il contrasto tra il rosso dell'aureola e il nero, l'oscurità dello sfondo, che sottolineano la dualità vita-morte, e che comunque indica ancora il rossore, il colore del sangue, della passione. Ma l'elemento più sconvolgente, quello che lo rende assolutamente sconvolgente, è proprio la decorazione di questi spermatozoi serpeggianti che corrono lungo la cornice, e poi la figura di questo feto, questo feto con la testa di teschio, ossuto, sofferente, che sembra quasi gettato fuori, diciamo così, proiettato fuori dall'utero materno, e che rendono il dipinto assolutamente scandaloso, sconcertante, e anche vagamente blasfemo. Però bisogna ragionare sul fatto che il soggetto vero e proprio, in questo caso, non è la Madonna intesa iconograficamente come la Madre di Cristo. Qui la Madonna è intesa come nella sua, come posso dire, la sua essenza di donna, la sua essenza tragica di donna, no? E qui sono esemplari le parole dell'artista quando parla di un dipinto della donna che dona e possiede la tormentata bellezza di una Madonna. La donna, nella sua totale diversità, mistero per l'uomo, simultaneamente santa, puttana e servizievole creatura, dedita nell'infelicità all'uomo. Quindi una donna che è destinata a produrre, a subire l'angoscia dell'esistenza, e quindi la Madonna come elemento costitutivo della donna in generale, e quindi sembra più un grido di dolore che una bestemmia, anche se evidentemente è un dipinto che come molti altri fece assolutamente scalpore. Ora è evidente che la critica di Munch nei riguardi della società borghese, che ovviamente non lo accetterà mai, non si limita al solo tema del rapporto tra l'uomo e la donna, la maternità e quindi la misoginia. Già a partire dagli anni 90, quando comincia a realizzare questi dipinti che hanno come soggetto la donna, la fan fatale, Munch analizza con occhio lucido, assolutamente disincantato, la società nel suo complesso, quindi l'ipocrisia della società e della borghesia che si trova a mostrare, a mettere in mostra il proprio benessere, a fare sfoggio di questa vuota apparenza di ricchezza, dietro la quale evidentemente si nasconde un potentissimo egoismo, un'indifferenza assoluta per chi ha meno la meschinità di una società che finge di essere una società buona, ma che poi è fondata esclusivamente sul profitto. Ecco, allora, in questo caso, nel dipinto che vedete, un tema come quello dei Grand Boulevard, affollati di gente che passeggia, che era un tema carissimo alla poetica impressionista, si trasforma in qualcosa di completamente opposto, si trasforma nell'occasione ideale per una critica feroce dell'artista, che rappresenta questo flusso di passanti sulla via Carl Johann, che era una delle vie principali di Cristiania, ma che mette scena nello stesso tempo da una parte il rito borghese del passeggio e da una parte il vuoto che accompagna questo rito borghese. E in effetti ciò che si vede al di là del belletto delle signore, dei fiocchi, della toilette, dei cappelli a cilindro, dei vestiti di questi personaggi azimati, è fondamentalmente l'alienazione, la desolazione interiore di questi borghesi che sono rappresentati come automi, come fantasmi, come spettri, con gli occhi sbarrati, privi di qualsiasi vitalità. E quindi abbiamo un'alienazione che tra l'altro è sottolineata da questi colori densi in campiture nette, piatte, colori freddi, oscuri, stridenti, tendenzialmente acidi. E poi un'unica figura al centro della via, che è la figura dell'artista che è fuori dal flusso di questi borghesi che passeggiano e che cammina dal lato opposto, quindi va contro le convenzioni e si allontana dalla società, alimentando però anche il proprio isolamento. La sua sarà evidentemente una vita di dolore proprio per poter vedere dentro se stesso e poter vedere in maniera chiara, evidente la pochezza, la meschinità della società che lo circonda. E veniamo rapidamente a quello che è il capolavoro assoluto, a quello che è considerato il più celebre forse dipinto di Munch e uno dei più celebri dipinti in assoluto nel patrimonio artistico di tutti i tempi che è l'urlo e che è diventato, questo è famoso, tra l'altro, non tanto e sicuramente non solo per la sua immediatezza, per la capacità di trasmissione emozionale che in questo caso si attaglia in una profondissima angoscia, ma soprattutto per l'aspetto innovativo, dirompente e sicuramente anche disturbante, anche sgradevole alla vista, che ne fecero da subito un caso, ma che ancora oggi per il grande pubblico risulta talmente doloroso da restare sicuramente indigesto. Qui abbiamo una sintesi, una deformazione della figura sia a livello cromatico che a livello formale che raggiunge livelli assolutamente impensabili per l'epoca, ma ancora oggi considerati di una modernità assoluta, mettendo in scena un quadro che è davvero carico di terrore, di sgomento, sembra veramente la rappresentazione tangibile di un attacco di panico. Anche in questo caso, come in altre occasioni, non si tratta di un dipinto unico, ma di una serie di dipinti, almeno quattro di grandi dimensioni, una cinquantina di prove, meditazioni, schizzi, bozzetti, realizzati con varie tecniche pittoriche e grafiche. Anche in questo caso il lessico artistico utilizza pochissime figure che diventano figure simboliche, una natura sconvolta, quella del fiordo norvegese, una strada che è delimitata da questa balaustra di legno che tra l'altro spesso l'ha fatta confondere con un ponte, le colline appena accennate alla destra dell'osservatore, le barche sullo sfondo e poi le due figure che sono appena bozzate in secondo piano al margine del dipinto, che lui dirà essere due figure dei due amici che si stavano accompagnando a lui, perché si tratta di un dipinto evidentemente autobiografico, e la figura dell'artista, la figura principale in primo piano, che però è rappresentato come un essere assolutamente svuotato, uno spettro ondulato privo di spina dorsale, una sorta di figura proteiforme che è prosciugata nella sua essenza e che mostra al posto del volto questa specie di teschio scarnificato, una bocca spalancata pronta a gridare, gli occhi con le orbite marcate ma svuotate, il naso solo accennato, qui si vedono veramente solo i buchi del naso, è quest'uomo che si stringe la testa, si tappa le orecchie, ma non si tappa le orecchie per non sentire, si tappa le orecchie per amplificare la percezione del proprio urlo che contrasta con l'urlo dirompente della natura, perché secondo l'artista appunto lui ha sentito gridare di dolore la natura e il grido della natura modifica le linee e i colori della natura stessa. In una delle giustificazioni che Munch dette di quest'opera, ne ha data più di una, si legge, camminavo lungo la strada con due amici, quando il sole tramontò il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue, vedete che torna questo tema del sangue, mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata, sul fiordo neroazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco, i miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. Ecco, ora, da questo punto di vista noi potremmo dire che il dipinto corrisponde già ampiamente, anche se in netto anticipo sui tempi, alla dinamica espressionista, una dinamica già completamente espressionista proprio in questa idea di un flusso di emozioni, di sensazioni che dall'interno, dall'interiorità dell'artista si rovescia verso l'esterno e verso l'osservatore, che poi è il contrario esatto di quello che faceva l'impressionismo, per cui un elemento esterno, diciamo, in qualche modo impressiona di sé l'occhio, la visione ottica dell'artista che lo riproduce. Ma qui Munch va addirittura oltre questa istanza, questa modalità espressiva, perché l'opera non manifesta soltanto l'interiorità dell'artista, ma coinvolge l'intera natura, una natura che è sconvolta dal dolore, che urla insieme all'urlo dell'artista, dell'interiorità, della sofferenza dell'artista, in una figura, reso in una figura, che testimonia la solitudine, l'isolamento assoluto di questo personaggio, che poi è Munch stesso, anche quando si trova in compagnia di persone che, almeno in teoria, essendo amici, dovrebbero comprenderlo. Una solitudine assoluta nella vicinanza fisica di persone, di congiunti, di altri esseri umani, che non possono farci pensare allo stesso tema analizzato da Degas, per esempio, nell'assenzio. Però quello che in Degas si esprime come un silenzio assoluto, un silenzio universale, in Munch invece esplode, fuoriesce dall'artista in un grido che si espande. Vediamo proprio le onde sonore che prendono piede in maniera concentrica, a partire appunto dalla testa, dall'urlo, dalla figura serpentinata dall'artista, onde sonore che prendono forma e sconvolgono la linea e il colore di tutto ciò che le circonda. E l'artista disse proprio la mia arte è in realtà una confessione fatta spontaneamente, un tentativo di chiarire a me stesso in che relazione sto con la vita e ancora ho fatto urlare i colori, ho capito che dovevo gridare attraverso la pittura. Che è un lavoro che l'artista porta avanti per tutta la vita, lo dimostra ad esempio tra gli altri un'opera come l'autoritratto all'inferno del 1895 dove si vede l'artista che riflette sulla propria interiorità e la espone alla osservazione del pubblico. Evidentemente siamo sullo scorcio del secolo, siamo in un momento di svolta epocale per la storia, sia da un punto di vista politico che economico e sociale, da qui a breve scoprirà la prima guerra mondiale. Munch insieme a tanti artisti che abbiamo già analizzato, alcuni insomma ne abbiamo già visti nelle ultime lezioni, comincia a esprimere questo malessere profondo, questa inquietudine esistenziale che deriva dalla consapevolezza, dalla comprensione della mancanza di certezze. Perché si passa da un'epoca di benessere borghese, illusorio, in cui ogni domanda apparentemente trova una risposta pronta, confortante e sicura, a un'epoca invece indeterminata, con il sogno che affianca, sostituisce la veglia. Si pensi per esempio agli scritti di Sigmund Freud che sono proprio di questi anni, al crollo delle illusioni. Abbiamo visto, parlando di Gustav Klimt, la cosiddetta finis austere, quindi il crollo di questa civiltà dorata, ma assolutamente effimera. La concezione della relatività che sarà tipica di Bershon, per esempio, per quello che riguarda il tempo, ma poi appunto anche con la scoperta della teoria della relatività di Einstein. Ecco, in questo senso, Munch è uno degli artisti più significativi e più ammirati dalle generazioni successive, proprio perché riesce ad aprire delle vie nuove, a prevedere quelle tensioni laceranti che sarebbero state, diciamo, il brodo di cultura, il sottofondo delle avanguardie storiche, che sono l'argomento che cominceremo a trattare nella prossima lezione. Grazie.